I due ex coniugi Stefano De Martino e Belen Rodriguez continuano ad accendere il gossip. Ricordiamo che Stefano e Belen si sono conosciuti durante un serale di amici di Maria De Filippi quando ancora De Martino era impegnato con la cantante Salentina Emma Marrone. Per i due fu un colpo di fulmine tanto che, dopo poco tempo, si sono sposati e hanno dato alla luce il loro figlioletto Santiago. Purtroppo, però, tra Stefano e Belen non c'è stato il lieto fine, i due hanno da poco firmato le carte del divorzio. Belen è attualmente fidanzata con il campione di Motogp, Andrea Iannone, mentre Stefano è single, almeno ufficialmente. Stefano ha detto, il tradimento, non svegliamo chi l'ha praticato, chi lo pratica e chi lo praticherà attira solo perché è proibito, il fascino di ciò che è vietato. La chiave per non farsi tradire è consentirlo a partner. Stefano non ha ammesso di aver tradito Belen, tuttavia già nei mesi scorsi giravano alcuni rumors sui suoi presunti tradimenti. In molti credano che proprio dietro a questo Grazie. Grazie.